Siamo insieme, ben ritrovati, per il nostro consueto appuntamento con i segreti della mano e ben ritrovato a Enzo Bordin. Ciao Enzo. Ciao, ben ritrovati anche i teri spettatori. Voi sapete che il nostro programma è dedicato a voi, è un programma gratuito, sperimentale e il dottor Bordin è un giornalista, uno studioso e interpreta i segni delle vostre mani e mani che voi ci potete fotografare e inviare con la mail la tua mano in tv chiocciolacaffetv24.it non solo, come dico sempre, tra una mano e l'altra, lo studioso di civiltà antiche e di aspetti sapienziali dell'antichità, il dottor Bordin, sempre alla ricerca dell'ultimo perché delle cose, approfondirà poi un argomento. Qual è l'argomento di oggi, dottor Bordin? La bellezza appollinea a confronto con quella dionisiaca Ecco, quindi il confronto tra i riti dionisiaci e appollinei interpretati in chiave moderna che si integrano tra di loro, quindi anche degli stimoli perché voi possiate poi approfondirli questi aspetti sapienziali dell'antichità a modo vostro, anche in internet, su libri, eccetera e noi vi daremo questa pillola sapienziale anche oggi. Bene, partiamo con la prima mano da interpretare che è quella di un nostro telespettatore che si chiama Jacopo Possiedi il pollice della mano mancina solido alla radice con un ipotenar bene sviluppato e una discreta verticalità La falangetta del dito della Vergine Carnale che supera la falangetta deputata al pensiero logico fornisce un dato importante In te prevale la volontà razionale, il senso del dovere l'ostinazione nell'ottenere ciò che persegui ed un orgoglio rimarchevole unito ad un rigore analitico altrettanto marcato L'angolazione di circa 60 gradi tra pollice e palmo certifica che sai socializzare essendo in costante contatto con la gente su diversi fronti Le dita non eccessivamente aperte segnalano che sei un tantino guardingo nei giudizi e che soppesi le parole col primo venuto La luce maggiore tra indice e medio sta ad indicare che sei uno spirito indipendente sicuro di te e deciso sul da farsi Dal dito di Giove, indice piuttosto rapace, apprendiamo che possiedi il senso del comando risultando più lungo dell'anulare preposto alla bellezza appollinea e al senso estetico ma a te non interessa l'arte che appaga la vista senza conquistare l'anima Il dito dominante di questa mano è il medio governato da Saturno che fa dell'introspezione, della concentrazione e della serietà di intenti sia nello studio che nel lavoro il suo tratto distintivo Sei un soggetto che prende la vita sul serio anche troppo La falangina più estesa di falange e falangetta indica che l'autocoscienza funge da filtro con un'azione di censura su ogni condotta ritenuta deviante rispetto ai valori di un'etica responsabile e consapevole In realtà, per la legge naturale del compenso alla tua coscienza puritana parebbe contrapporsi un istinto selvaggio sviluppato dall'ess un'istanza intrapsichica che secondo Freud, padre della psicanalisi proietta le spinte punzionali di carattere erotico aggressive ed autodistruttive spinte peraltro incontrobarbili pur mettendo in campo una barriera morale in quanto l'ess esprime l'imprevedibilità di bisogni impulsionali vissuti come estranei alla parte cosciente della personalità Nella meta psichica di Freud legata alla teoria strutturale l'ess non appare inferiore all'io risultando in grado di immagazzinare un'enorme quantità di ricordi rimossi soprattutto quelli infantili l'influenza intrapsichica dell'ess appare più nitida quando si passa a valutare la superficie palmare di Jacopo col palmo ampio e di forma quadrata e con dita più corte dello stesso anche se non corte in assoluto ciò valorizza un carattere intraprendente con personalità spiccata che non manca di acurio critico e di vis polemica ciò nonostante ci troviamo in presenza di un palmo pieno di segni di contrasto in un soggetto più severo con se stesso che con gli altri lo si deduce da una linea del cuore con isole, freccette inesorabili nel mettere in risalto un'ambivalenza di fondo il solo pensiero che la tua finanzata possa lasciarti all'improvviso è un tarlo che ti rendi inquieto e tormentato pur se non esiste alcun indizio reale in tal senso per non parlare di un suo eventuale tradimento nei suoi confronti ti rifiuti a priori di prenderlo in considerazione anche in via teorica poiché il tuo sentire etico ti fa star male anzi malissimo davanti ad una simile condotta ritenuta inaccettabile morale della favola rafforzi la conscienza critica a livello preventivo come se tale problematiche sentimentali esistessero davvero invece si tratta di una sofferenza interiore vera e non già simulata pure la linea della vita lunga ma anch'essa dal percorso accidentato e a tratti sdoppiato riflette il tuo scontento esistenziale acuito dal fatto che nasce nello stesso punto della linea della testa tale riscontro mette in rilievo l'influsso che la famiglia originaria esercita ancora su di te soprattutto in riferimento alla figura paterna alla quale riconosci caratura culturale inventiva e capacità espositive del teatrante ma anche una certa aleatorietà nel tradurre i sogni in realtà tu invece per contrapasso tendi a rafforzare l'aspetto razionale e speculativo della tua personalità puntando sulla precisione sulla concretezza operativa e sul fatto di saper curare le cose portandone a termine ad ogni costo pur se diverse tra loro ne esce un conflitto tra elementi coscienti dell'io e ricordi infantili che il superio non vorrebbe rievocare trattandosi di un complesso di azioni e motivazioni maturato attraverso l'identificazione del fanciullo con i suoi genitori e in particolare con quello dello stesso sesso ne esce questo schema presente nella struttura dell'apparato psichico l'azione cosciente di tale complesso incita l'io per evitare un senso di colpa a difendersi contro gli impulsi istintivi sessuali od aggressivi promossi dall'es la tua linea dell'intelletto sorretta da logica rettilinea e da acume progettuale coniuga una mente applicativa ben lontana dai voli pindarici e astratezze vaghe la linea della salute odepatica anch'essa con un percorso ad ostacoli indica che siamo in presenza di un soggetto sensibile come corde di violino nel senso che avverti le vibrazioni del tuo corpo sapendo cogliere le minime anomalie di carattere neurovegetativo soprattutto a livello del sistema vagotonico stomaco e pressorio nulla di preoccupante positiva invece la presenza del triangolo che ha perlati le linee di testa vita salute significa che miri in alto e ti dimostri attivo e costruttivo nell'applicazione delle tue energie potenziali piccolo riepilogo come sempre della mano di Jacopo etica responsabile consapevole barriera etica e morale in contraposizione con personalità più aggressiva carattere intraprendente personalità spiccata severo più con se stesso che con gli altri tarlo che la tua partner ti possa lasciare all'improvviso rafforzi la coscienza critica a livello preventivo su problematiche sentimentali conflitto tra elementi coscienti dell'io e ricordi infantili l'azione cosciente incita l'io per evitare il senso di colpa a difendersi verso gli impulsi istintivi soggetto sensibile miri alto e sei costruttivo verso le energie potenziali bene questa era la prima mano di oggi ed ora passiamo al nostro approfondimento sapienziale che oggi è confronto tra il rito dionisiaco e apollineo interpretati in chiave moderna e che si integrano tra di loro quindi dottor Bordini facci un po' conoscere questo aspetto sapienziale di oggi ci proverò ci proverò forza il mito di Dioniso rappresenta la riflessione moderna legata al culto della danza e delle bressa che sprigionavano le baccanti di Euripide Dioniso è il dio dei piaceri regna sulle feste tra corone di fiori e pampini anima le ballate inebrianti e gioiose allo scopo di dissipare le nere malinconie il suo nettere fatto cadere sul tavolo degli dei aumenta la loro felicità e immortali trovano nella loro coppa l'oblio dei mali all'inizio venne proposto come dio arcaico della vegetazione in seguito assunse il significato di dio del vino dell'estasi e della liberazione dei sensi più tardi ancora venne identificato come l'essenza del creato nel suo perenne e selvaggio fruire lo spirito divino di una realtà smisurata l'esistenza intesa in senso assoluto Dioniso raffigura in pratica l'istinto presente anche nell'uomo più civilizzato come parte originaria insopprimibile che può emergere ed esplodere anche in modo violento se non viene repressa anziché incanalata in modo corretto quale divinità della forza di impulso e dell'ebbrezza dell'estasi Dioniso divenne oggetto di analisi di Nice che contrappose lo spirito dionisiaco a quello apolineo nella sua nascita della tragedia egli riprende questo concetto già citato nella poetica di Aristotele e così riassunto alla base della tragedia greca e di ogni creazione artistica vi è la contrapposizione in perfetto equilibrio tra spirito apolineo e spirito dionisiaco nasce così un mondo intermedio tra bellezza e verità l'attore non tende più a rappresentare la bella presenza ma l'illusione non tende alla verità ma alla verosimilianza l'arrivo in asia del nuovo culto di dioniso crea una rivoluzione un tumulto in tutti i settori della società greca e ovviamente anche nell'arte nel mondo apolineo esisteva infatti solo il mondo del sogno onirico da cui traevano origine l'arte figurativa e una parte della poesia tese a privilegiare solo la bellezza giovinezza e contemplazione ossia la bella illusione con l'avvento di dioniso l'elemento naturale e dell'armonia universale si fa strada nell'uomo attraverso l'ebbrezza e il rapimento dei sensi l'uomo sente ciò che prima viveva solo come immaginazione diventa egli stesso opera d'arte le baccanti si muovevano con un'asta chiamata tirso rivestita di edera e alla cui sommità veniva messa una pigna per sbilanciare il peso durante la danza la disarticolazione del corpo era espressa con braccia e gomiti dietro le spalle e la testa rovesciata ne usciva una danza scoordinata e connessa fuori da ogni regola e libera così da risultare sublimante Dioniso veniva chiamato anche il contemplatore dio dell'immediata presenza nelle maschere a lui dedicate agli occhi grandi dello scrutatore simbolo della frontalità e di ciò che viene incontro ma da cui non si può sfuggire il suo volto appare intenso vibrante ma nel contempo ambiguo simbolo contraddittorio di immediata presenza e di assoluta assenza di realtà e illusione di ragione e follia le maschere Dionisiache rappresentavano l'infinito enigma della duplicità e della contraddizione che investe tutta la sfera dell'essere incarna lo spirito di natura selvaggia e universale altro elemento tipico del culto di Dioniso era la partecipazione essenzialmente femminile alla cerimonia con un corteo di sileni satiri e ninfe cariche di furore inteso come stato di invasamento divino danzavano incoronate di frasche dall'oro tralci di pampeni e pelli di animali selvatici i maschi erano invece camuffati da satiri il culto figurativo della civiltà appollinea trovava uno scopo nella misura e nella bellezza la misura diveniva un'esigenza dove il limite era conosciuto il limite dei greci antichi fu quello dell'illusione che assieme alla misura costituiva il fine ultimo per vedere la verità la comparsa di Dioniso coi suoi eccessi di gioia e di dolore diventa conoscenza della realtà tutto ciò che rappresentava un limite si rivelò un'illusione e tutto ciò che risultava eccessivo si dimostrò realtà morale della favola l'estasi dello stato dionisiaco annientava i limiti abituali dell'esistenza entrando di fatto in un ubrio dal quale se ne usciva tornando alla realtà col disgusto per l'assurdità della vita umana il giusto connubio tra appollineo e dionisiaco trovò sempre più ampio spazio nell'opera d'arte tragica trasformando quel disgusto esistenziale in un elemento intrecciato sublime e nel contempo ridicolo questo nuovo taglio interpretativo non coincideva con la verità ma appariva più trasparente della bellezza anche se rimaneva un filtro creando un mondo intermedio tra bellezza e realtà l'attore dionisiaco raccoglie in sé il poeta il cantore il danzatore istintivo superando la bellezza e la esteticità senza cercare la verità assume una posizione equidistante non tende alla bella presenza ma all'illusione non alla verità ma alla verosimilianza appollo misura cerca la giusta distanza dagli oggetti li rappresenta liberamente ma sempre secondo regole tentando di carpire la natura di abbellirla dioniso accetta invece il mondo com'è rifiuta ogni lontananza si aggrappa adesso è il sì della vita nella sua vitalità compreso il caso il dolore e la morte è il dio passo che danza e ride figlio di Zeus e della sua amante semele il cui nome significa la sotterranea immagine della terra intesa come un grembo oscuro ma feconda che sottrae la vita alla luce e la sorbe per riprodurla in un eterno ciclo di morti e resurrezioni bene questo è l'approfondimento sapienziale di oggi che vuole essere anche per voi uno stimolo per approfondire a vostra volta questo confronto tra il rito dionisiaco e appollineo vero Enzo tu dai queste pillole per anche incentivare i nostri telespettatori ad aprirsi ad una cultura che magari conoscono meno giusto ecco e quindi appollo e dioniso in contrapposizione tra di loro questo istinto che è completamente diverso tra uno e l'altro a voi poi completare con le vostre conoscenze quanto vi ha detto il dottor Bordini e ora noi continuiamo il nostro programma con l'interpretazione di un'altra mano di una nostra telespettatrice che si chiama Giorgia Della tua mano destra colpiscono in primis le dita ravvicinate a delineare cautela e conformismo anche il pollice che forma un'apertura ad angolo acuto rispetto al palmo ossia inferiore alla norma delinea un carattere guardingo abituato a soppesare tutto e tutti senza sbilanciarsi troppo il pollice detto anche della vergine carnale ha una verticalizzazione un tantino ridotta rispetto alle altre dita in quanto stenta ad arrivare alla prima falange dell'indice in compenso mette in mostra un impianto solido con base carnosa e con falange unghiata di maggiore consistenza rispetto alla falangina tradotto in soldoni significa che la volontà razionale predomina sul pensiero logico ne deriva che quando ti metti in testa una cosa cerchi di ottenerla ad ogni costo la tua strategia per arrivare alla meta ce la rivela l'indice ingannatore nel senso che non evidenzia le caratteristiche fisionomiche del dito del comando sotto l'influsso di giove risultando nettamente più corto rispetto all'anurale patrocinato da Apollo e deputato all'arte e alla bellezza in generale non possedendo le physique du rôle di chi sa prendere il toro per le corna la tua strategia persuasiva consiste nel lavorare i fianchi lentamente ma inesorabilmente prendendo l'interlocutore di turno per sfinimento non sembri una contraddizione in effetti tu non ti poni tra gli obiettivi principali il predominio sugli altri per te conta solo riuscire a raggiungere i tuoi scopi magari col sorriso sulle labbra e il comportamento a tono si nota un altro particolare saliente Mignolo e Anulare da un lato e indice dall'altro appaiono leggermente inclinati sul medio di Saturno che sembra accoglierli con atteggiamento protettivo in quanto tende a favorire l'equilibrio della personalità attraverso l'esame introspettivo e rigoroso del tuo ricco quanto ingarburiato mondo interiore Anulare e Mignolo vanno invece valutati assieme poiché declinano la stessa tendenza a vivere con stile e ad assaporare il gusto delle belle cose La falange unghiatta del dito di Mercurio più consistente delle altre due sorelle pone l'accento sulla tua abilità dialettica e sulla tua maestria nell'organizzare grandi feste ed eventi La prominenza evidente della terza falange o falange palmare che rappresenta la realtà carnale indica sensualità e propensione agli agi la conferma arriva anche dalla vistosa eminenza tenar posta alla base del pollice soprattutto in riferimento all'energia vitale che scorre nelle tue vene la superficie palmare va classificata nel novero di quelle piene con un intreccio di segni e i ditici siamo in presenza di un palmo esteso in contrasto con dita corte a segnalare una persona vivace impaziente intraprendente e perspicace e pronta di riflessi ma a colpire di più sono le tre linee chiromantiche della tua mano destra in mancina testa cuore e vita e entriamo nei dettagli il fatto inusuale è che il percorso dell'intelletto parte in basso con quello della vita per poi risalire bruscamente nella parte finale fino a confluire nella linea del cuore formando un unicum che poi prosegue fino alla percussione si tratta di un'invasione mentale che ha finito per soffocare il cammino dell'emotività o comunque condizionarlo con tanto di separazione dal pattern e ciò che ne consegue dal momento di quella rottura sentimentale in poi tutto è cambiato vivi alla giornata i piccoli cerchi lungo la linea cordiale rappresentano l'immagine icastica di un disagio affettivo che ha radici lontane una croce con le punte più basse infilate nei due cerchi posti lungo il percorso cordiale all'artessa del monte di saturno segnala il controllo ferreo della razionalità sull'impulso che non si fida di lui la linea della testa lunga e bene incisa evidenzia che possiedi un'intelligenza analitica sorretta da un'ottima memoria visiva con l'aggiunta il fatto che questa linea nasca con quella della vita percorrendo l'una sull'altra un buon tratto di cammino prima di dirsi addio significa che non sei ancora riuscita a staccarti completamente dal tuo mondo d'infanzia e dall'influsso psicologico della tua famiglia originaria nella tua esistenza ne hai viste di cotte e di crude e dovrai superare altri ostacoli come lasciano intendere le due linee di contrasto che partendo l'una dalla linea del destino e l'altra da quella della salute si collegano in orizzontale col percorso vitale destinato a non annoiarsi di certo in ogni caso sia la linea della sorte che quella mercuriana deputata alla salute raggiungeranno dopo varie giravolte i rispettivi monti da partenenza sei in salvo un monte di venere ampio molle e godurioso dice che sei edonista a tutto tondo ed anche questo è un piacevole evento bene piccolo riepilogo della mano della nostra telespettatrice Giorgia cautela e conformismo carattere guardingo la volontà predomina sul pensiero logico sensualità e propensione ai viaggi vivace intraprendente perspicace disagio affettivo con radici lontane razionalità sull'impulso intelligenza analitica e ottima memoria visiva affronti i cambiamenti con prudenza anche per oggi abbiamo terminato il nostro ventiduesimo appuntamento con i segreti della mano è una trasmissione che potete rivedere quando volete sul vostro cellulare digitando in internet i segreti della mano 22 che è il nome di questo programma noi vi diamo appuntamento sabato prossimo inviateci con fotografate il palmo della vostra mano sinistra o destra se siete mancini e inviatelo come dico sempre alla tua mano in tv chiocciola caffetv24.it il dottor Bordì un po' alla volta le interpreterà tutte vero abbiamo parecchi ancora da interpretare spero quindi noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima e saluti a tutti ciao e grazie arrivederci saluti a tutti